mi chiamano Lady Bekos il rosso è il mio colore il colore della passione la passione per la bellezza mi prendo cura della mia bellezza in modo chic e trendy e frequento i centri estetici Bekos Club oggi è per me un giorno davvero importante mi affido a Giada la mia estetista allenatrice di bellezza esperta, professionale e glamour mi garantisce meno rughe e un corpo da favola Giada e Lady Bekos vi aspettano per il Party Bekos Celebration la Cosmesi Bekos è trendy e innovativa è la risposta made in Italy per guidare l'innovazione e creare tendenze dai laboratori Alfa Parf Group in Italia e dalle migliori e più qualificate esperte della pelle soluzioni di Face & Body Care frutto di una rigorosa ricerca scientifica efficaci e garantite nei risultati oggi Lady Bekos e le sue estetiste festeggiano in modo chic e glamour 30 anni siete tutti invitati nel Bekos Club per il Party più glamour della Cosmesi buon compleanno Bekos benvenuti al Party Bekos il più glamour della Cosmesi Bekos Bekos la bellezza è passione la bellezza è passione è passione la bellezza è passione